Importante operazione a contrasto della criminalità a Fano con la polizia che ha arrestato oggi quattro pregiudicati tunisini gravitanti in città. Un'operazione denominata Cartagine che trae origine ed attività di indagine della Questura in merito ad una rivalità fra due clan presenti in città, uno tunisino ed uno egiziano. Rivalità legate allo spaccio di droga che lo scorso agosto sono sfociati in un violento regolamento di conti da parte di un gruppo di tunisini contro un egiziano. Episodio verificatosi in piena notte nei pressi del ponte che collega l'Arzilla al Lido dove l'egiziano fu pesantemente malmenato e rapinato del cellulare. Gli investigatori sono risaliti all'identità degli autori del pestaggio riconducibile anche a reati di spaccio. Sono stati rintracciati grazie a numerosi servizi di controllo e all'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza. Il Tribunale di Pesaro ha così emesso i provvedimenti di ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico dei quattro stranieri ritenuti indiziati dei reati di rapina aggravata, lesioni e minacce. Arresti eseguiti oggi con i quattro indagati rintracciati fra Fano e la provincia di Ancona. Un'operazione che ha ricevuto anche il plauso del sindaco fanese Luca Serfilippi a pochi giorni da un ulteriore potenziamento della videosorveglianza in città. Tre tunisini sono ora reclusi nel carcere di Villa Fastigi, uno in quello anconetano di Montacuto.